Ok, aspetta. Costantini, Giulianova è Sofia praticamente la capitale della Bulgaria? No, diciamo che i dati che arrivano sono straordinari. Aspettiamo naturalmente la chiusura dei seggi, però tanti cittadini di qualsiasi colore e bandiera politica hanno scelto il buon governo e questo ci fa veramente piacere. Se l'aspettava una vittoria di queste proporzioni? Noi abbiamo sempre parlato di una competizione da chiudere al primo turno perché sentivamo che la città avrà capito quello che era stato il lavoro fatto in questi ultimi cinque anni, però se verranno confermate le percentuali da qui alle prossime ore sono percentuali veramente importanti. Che cosa non le è piaciuto di questa campagna elettorale? Mi dispiace per il comportamento di qualcuno, però la politica è così. Sì, io per cinque anni ho subito attacchi soprattutto personali di ogni genere e ho cercato sempre di rimanere calmo, soprattutto ho ricevuto un sacco di calugne e nonostante quelle i miei concittadini non mi hanno abbandonato, sono stati con me e oggi me ne hanno dato ampia dimostrazione. Piazza del mercato? È uno dei tanti obiettivi che questa amministrazione comunale ha raggiunto in questi cinque anni straordinari dove i miei consiglieri, la mia giunta abbiamo lavorato senza sosta, ma da piazza del mercato coperto ripartiamo, nel senso che tutti sanno che io una volta che raggiungo un obiettivo me ne pongo subito un altro e quindi ci sono ancora tantissime altre cose da fare. Che significa altri obiettivi? Quali? Mai, quelli che abbiamo raccontato in campagna elettorale, tra il collegamento tra Giuliano Valide e Giuliano Paesi, la riqualificazione di tutto il centro storico, un piano importante per le manutenzioni, il verde pubblico che deve essere finalmente all'altezza di una città come quella di Giuliano Valide. Non abbiamo la bacchetta magica, in cinque anni nonostante il Covid siamo riusciti a tornare a far sognare questa città, adesso c'è ancora tanto da fare. È nostra tradizione come cinque anni fa. Grazie, io come tradizione porto la stessa maglia che portavo cinque anni fa, perché sono sgaramanti, sì assolutamente sì, vi ringrazio, lo apro davanti a voi, ma tanto già so che cos'è e lo andrò ad aggiungere a quella che già porto al collo. La prima cosa che le viene da dire da sindaco, riconfermato, qual è? Grazie, grazie, grazie. Abbiamo un ancora che è un punto fermo, la coerenza, e poi abbiamo un paio di forbici per tagliare i prossimi nastri. Grazie di cuore, le aggiungo subito alla mia collana.